buongiorno good morning good morning non potevo non dargli un buongiorno dalle piramidi siamo ancora al cairo in questo meraviglioso viaggio per queste anni mi si sono affidate abbiamo avuto giorni potentissimi meravigliosi l'energia delle piramidi ci ha accolto ieri la firma di che opera veramente super potente ecco qua il grande guardiano della cascia la sfinge che rimane imperterrita da anni che guarda oltre e d'oltre quindi buongiorno da qui buongiorno dalle meravigliose piramidi questo meraviglioso deserto stamattina finalmente andiamo dentro il meraviglioso museo nuovo museo del cairo magari ci sentiamo da lì e vi abbraccio tutti e vi saluto con la mia amata unica amata la sua energia mi appartiene e mi accompagna vi abbraccio e vi mando mille baci e buona giornata qui c'è ovviamente mister sun di ora che mi accompagna che ci accompagna quindi buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata vi bacio a presto